Vi testo, sono carico e adesso giocherò due partite di fila. Arriva d'Avellino per spaccare il mondo con un bagaglio considerevole, 302 presenze tra Lega Pro e B, 86 gol all'attivo. Matteo Ardemagni si presenta alla piazza bianco-verde come il colpo che in un'amen ha cambiato il volto del mercato dell'Avellino. Sono pronto, se il mister vuole posso già giocare a Chiavari. Da attaccante esperto e conoscitore delle difficoltà della B, predica calma Ardemagni, primo obiettivo, la salvezza. Come primo obiettivo la salvezza e poi se saremo là, insomma, togliersi delle soddisfazioni, è bello per tutti, quindi perché no? Non promette le stelle ma si rivolge alla piazza con la consapevolezza di chi gol li ha sempre fatti e continuerà a farli anche in Irpinia. Quello che prometto è il sacrificio, lo spirito di squadra che è una cosa importantissima. Poi se arrivo in due cifre ancora meglio, però voglio più guardare l'obiettivo di squadra che credo sia la cosa più importante. Mi piace prendere le responsabilità e mi affascina anche avere tutti voi, perché se c'erano qua due giornalisti magari mi ammosciavo. Quindi mi date ancora più carica. E alla sua prima esperienza al sud, nessuna ragione particolare lo ha voluto sempre in squadre del nord. Quest'anno è arrivata l'offerta dell'Avellino e non ci ho pensato su due volte. Mi sono detto ma perché sempre su al nord, al centro, vorrei provare un'esperienza anche al sud. E guarda caso è saltato fuori l'Avellino e l'ho accettato subito. Chiusura sui derby che in carriera lo hanno sempre visto protagonista. Qui ce ne sono due, meglio così. Due meglio che uno, quindi speriamo di portarli a casa tutti e due.